In maniera molto semplice perché non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, per me Giorgia è stata e sarà sempre la persona più importante per me e questo a prescindere dal fatto che noi si sia fatta una famiglia insieme, lo sarà sempre perché è una persona per me fantastica, quindi questo è quanto ti posso dire perché in tempo non ho mai parlato prima non ho mai parlato dopo, non ho problemi nel dirti che per me è stata e sarà sempre la persona più importante